Prospettive delle infrastrutture e dei servizi nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. Di questo e tanto altro si è discusso nell'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in videoconferenza nel Palazzo della Provincia. Il presidente Giuseppe Paolini ha chiamato a raccolta i sindaci del territorio per affrontare le questioni in tema di infrastrutture e servizi pubblici. Dopo un breve saluto del prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, sono intervenuti tra gli altri il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, il presidente provinciale di Confindustria, Mauro Papalini, il segretario provinciale della CGL, Roberto Rossini e il CEO di Altesis, Alessandro Marangoni. Con il recovery plan, con i finanziamenti che arriveranno e arriveranno parecchi soldi, noi o siamo tutti uniti come territorio oppure rischiamo di fare un flop nell'acqua. Cioè dobbiamo essere uniti come territorio tutta la provincia, presentare dei progetti credibili che diano risalto e che mettano in primo piano lo sviluppo che noi vogliamo dare al nostro territorio. Sicuramente parleremo anche dell'idrico che saranno i rifiuti, che saranno poi le strutture scolastiche. Il ministro ha firmato un decreto di finanziamento di 1 miliardo e 125 milioni per le scuole, il che vuol dire prevedere scuole nuove. Finalmente per me questa è la notizia più importante. Poi c'è la viabilità, ci sono i ponti, ci sono tutta una serie di realtà che debbano essere seguite e migliorate e perché no anche nuove. Quello che cercherò di sottolineare è come rispetto agli approcci tradizionali allo sviluppo del territorio si pone molto l'enfasi ad esempio sul ruolo del capitale sociale. Quindi come un insieme di relazioni che si staranno in un territorio e che facilitano gli scambi di idee. Un ruolo importante viene svolto anche dalle utilities, appunto di queste società che offrono dei servizi di tipo essenziale, quale l'energia, l'acqua, il trattamento dei rifiuti. Ci sono, farò vedere dei dati come ad esempio in Italia il costo dell'energia per le imprese. Sono un multiplo di quello che ci sono in altri paesi tipo gli Stati Uniti e la Germania, addirittura 28 volte più costoso rispetto alla Francia. Grazie a tutti.